In questo tutorial andremo a vedere come poter gestire, sempre nell'ambito dell'overdenture, la barra con allineamento attraverso ScanBody. Quindi segniamo come sempre sul nostro odontogramma i denti in questione, dove saranno posizionati i pilastri e procediamo, scegliendo la libreria di riferimento già caricata e andiamo ad allineare uno a uno i quattro ScanBody. A questo punto scegliamo di importare il WhatsApp, ricordandoci che sarà sempre possibile realizzare volendo un WhatsApp virtuale in questa fase. e andiamo con due brevi clic a gestire la parte del canale vite. Questo canale vite può essere lavorato in maniera dritta o accettando il warning proposto dal software e passando alla gestione del foro inclinato. Ora scegliamo di realizzare una barra telescopica andando punto per punto a disegnare il profilo della struttura. Come possiamo vedere viene creata una proiezione con un piano orientabile sui diversi piani e, una volta deciso l'ingombro, daremo l'ok e verrà trasformato in una struttura telescopica. La porzione arancione caratterizza le pareti parallele che hanno un range di angolazione che varia da 0 grado a 3 gradi. Questa zona è inviolabile, quindi non sarà possibile modificare se non muovendo interamente la linea riferita al suo profilo. La combinazione dei tasti è come sempre descritta nella leggenda di sinistra, dove ci viene spiegato come intervenire sul singolo punto, su un gruppo di punti, su una linea intera e su tutte le linee superiori a quella che intendiamo muovere. Diciamo che questa barra è abbastanza semplice da realizzare, abbiamo molti punti di ancoraggio, riusciamo a gestirla in maniera molto molto semplice. La gestione della porzione superiore è di estrema importanza quando il processo proseguirà con il posizionamento di OT-CAP o degli altri tipi di attacchi. Soprattutto nella telescopica è importante gestire al meglio il bordo inferiore, ma ricordandoci che la parte arancione sarà sempre inviolata. A questo punto accendiamo in trasparenza il nostro WhatsApp e siamo sostanzialmente pronti per oprodurre la barra o potremmo proseguire costruendo sopra un overventure.